Ciao! Ciao! Siamo qui con il gruppo di San Martino di... di Lumbari! di Lumbari, ok? Allora, io intanto vi dico di iscrivervi al canale, di attivare la scuola di ballo sorriso, di attivare le notifiche. C'è una campanellina, attivate le notifiche e valevi vedere un bel like. E stasera andiamo a fare un ballo di gruppo semplice che è composto da 8 passi e si chiama... Cumbia 1! No, Italia 1! Canto vogliamo anche ringraziare Lauser che ci ospita, Lauser di San Martino di Lumbari che ci ospita come sempre tutti i giovedì qui a San Martino di Lumbari. Ok, io direi di cominciare a farvi vedere il ballo, mettere in posizione, ringraziamo il nostro DJ per la musica e quando vuole puoi cominciare. Cumbia 1! Scuola di ballo, sorriso! Vedete? Iscrivetevi! Grazie! 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 Ver variantari e servizio su YouTube! Ciao a tutti! Grazie a tutti.